buongiorno care mamme vi è mai capitato di preparare da mangiare per i vostri figli con tanto amore e poi trovarvi il cibo spiattellato sul soffitto bene nel filmato di oggi vi mostrerò come dar da mangiare ai bimbi rompico insofferenti e riottosi per prima cosa preparate cibi appetitosi sfiziosi e dalla forma accattivante mamma ho fame cosa si mangia vi sto facendo delle automobiline di pasta col salmone insalata pomodorini tagliati a forma di aeroplanini sofficini al prosciutto che vi piacciono tanto e torta alla cioccolata non mi piacciono i prodotti ittici e abborro l'insalata ma apprezzo i pomodori l'insalata mi piace ma i pomodori sono acidi che schifo il prosciutto sai che era peppa pig buona la cioccolata io odio la cioccolata eccoci ora a tavola la soluzione per far mangiare i vostri bimbi è frullare tutto quanto insieme cos'è questa sbabba mi viene da vomitare guarda è rimasta una fogliolina ecco qua te l'ho tolta che strano odore mamma ci hai frullato dentro gli asparagi ci sono gli asparagi lì dentro io odio gli asparagi sento puzza di asparagi mangiateli tu no no io non mangio questo schifo forza mangiate ve la fracco giù con l'imbutto sta roba mi scappa la cacca Gigi per favore non è buona educazione ruttare a tavola e lo sai anche tu che i bimbi non piacciono gli asparagi devi sostituirli con qualcos'altro ho un'idea ecco qua li ho sostituiti con due capre le capre mangiano di tutto e i nostri figli dove sono finiti li ho mandati in siberia da un grande maestro di arti marziali torneranno quando avranno 18 anni e saranno dei campioni invincibili campioni di cosa ci sono solo bacche e radici non c'è qualcos'altro da mangiare io ho fame anche io bravo io root misterio farò di voi dei veri uomini ma soprattutto dei campioni di root questo è un buon inizio ma ora andiamo quando tornerete alla vita civile vincerete il root sound non fa male non fa male mi scappa la cacca Adriana Oste na bira sei tu che te che proprio na mascherina strana Adriana ahhh 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 Grazie a tutti